Senti, scusami caro, no no no, continua tranquillo, non ti voglio dare fasi per fai Vedi che mi sei girato ma ha capito che non li devo far sfruttare Quello ba- cosa fa questo? Che lo sta facendo? Non so quale dei due sia migliore a ballare Posso provare a fare un canestro? Provo eh Ah! No, eh, no no no, cioè, credimi che non volevo Quello è nudo! Non pensavo che il basket fosse così violento Vuoi vedere il cd di Gigi D'Alessio come ti uccide? Fermo un attimo Pam! Allora, questo è un mandarino Ok, mandarino È un mandarino! Come fai a morire? Guarda che strage! Ah! Devo soffiare il naso! Questo è svenuto Questi giocano a fagginnaste e vite parallele